La seconda manche dello slalom, gigante al Sestriere, una prima manche lunga, difficile, una seconda manche ancora più complicata rispetto alla prima. La classifica parziale vede in testa l'americana Paola Molzan, due trenta e novantasei. Poi in seconda posizione la svizzera Wendy Oldner, staccata di ventinove centesimi. In terza posizione l'Azzurra, Anzia Zenere, Vicentina, ventisei anni tra qualche giorno, alla terza partecipazione in Coppa del Mondo sul podio virtuale. Una gran seconda manche per lei con il miglior crono insieme all'americana Paola Molzan. E poi via via tutte le altre devono scendere ancora le migliori. Tra queste ci sono Federica Brignone, settima stamattina e soprattutto Marta Bassino al secondo posto nella prima manche stamattina. ha una manciata di centesimi, per l'esattezza sette sono i centesimi, il distacco dalla slovacca Petra Vlova che ha ottenuto il miglior crono stamattina. Partita Federica Brignone, partita Federica Brignone non è stata sicuramente la miglior Brignone stamattina, una pista non difficile perché c'è un muro e poi c'è un lungo tratto in piano e dunque devi saper sciare e devi saper lasciare scorrere lo sci. Qui nella posizione a Duovo Federica Brignone, la posizione a Duovo di massima velocità, 48 centesimi. Ha guadagnato, ha guadagnato rispetto, rispetto all'Ara Gutberami. Finora una Brignone sicuramente diversa rispetto a quella vista stamattina. Pista baciata dal sole, Giovanni Alberto Agnelli, la pista del Sestriere. Un gioco di luci e ombre perché adesso nella parte invece di ombra della pista sul muro Federica Brignone con un vantaggio importante, 94 centesimi, 94 centesimi. Questo è il suo pane, questo è il suo pane, le curve le sa fare sicuramente meglio di tantissime. Federica Brignone, 2'14'65, il prossimo rivelamento cronometrico avanti di un secondo e 0'3. Una gran seconda manche, una gran seconda manche, una manche alla Brignone finora, una gran seconda manche per Federica Brignone. Ultime porte per lei, ultime porte della seconda manche di Federica Brignone. Va a tagliare il traguardo, nettamente in testa, nettamente in testa. Una manche straordinaria, una manche alla Brignone direi con un vantaggio siderale, un vantaggio siderale rispetto all'Ara Gutberami. Un secondo e 38 centesimi, addirittura per Federica Brignone l'applauso del pubblico. E' naturalmente una gran seconda manche per lei, un grande sventolio di bandiere e tricolori. Al Sestriere, 2'29'55, il crono delle due manche. La seconda 1'16'29, stamattina 1'13'26. Dunque tre secondi più lenta la seconda manche rispetto alla prima tracciata dalla norvegese. La classifica parziale, con Federica Brignone in testa, mentre pronta al cancelletto di partenza la svedese Sara Hector. 1'38' sull'Ara Gutberami, in terza posizione l'americana Paola Molzan a 1'41' e poi abbiamo Asia Zenere in quinta posizione a 1'97'. Devono scendere tutte le migliori, a cominciare dalla svedese Sara Hector, poi ci sarà la norvegese Mo Winkel, l'americana Michaela Schiffren, la francese Tessa Bourlet, la nostra Marta Bassino e il miglior crono di stamattina, la slovacca Petra Vlova, linea allo studio. Siamo davvero nel rush finale di questa seconda manche, un gigante davvero spettacolare. Spettacolare è stata Federica Brignone perché ha disputato una straordinaria seconda manche, ma è stata meglio di lei Sara Hector, la svedese in grandissima forma, in grandissima forma la svedese che sopravvanza Federica Brignone di soli 55 centesimi. Allora Emilio, guarda, ti dico che seguiremo insieme con te le fasi finali ovviamente di questo gigante, ma anche insieme al nostro gradito ospite, il presidente federale della Federship, Flavio Roda. Ben trovato, presidente. Buongiorno a voi. Speriamo ci porti fortuna, ma non abbiamo dubbi, vista insomma la grandezza delle nostre ragazze. proprio fa Emilio Mancuso ci ha raccontato di una grande seconda manche di Federica Brignone e ancora dobbiamo capire cosa potrà fare Marta Bassino. Insomma, presidente, lei si trova credo proprio lì, o sbaglio? Sì, sono qua al parterre, quindi sentirete anche sottofondo proprio tutti quelli che sono qua a Sestrero. Oggi veramente è uno spettacolo bellissimo. E allora vi lascio Emilio Mancuso, Flavio Roda, per vivere insieme queste fasi importanti, finali del gigante femminile. Va Emilio il tuo racconto e naturalmente con te il presidente della Federazione Italiana SCI, Flavio Roda. Partita, partita Marta Bassino, ha un vantaggio di 43 centesimi rispetto alla svedese Sara, Hector, Marta Bassino a caccia di un risultato importante. Oggi in slalom gigante, ha perso qualcosina, 17 centesimi. La parte della pista, Giovanni Alberto Agnelli, meno che si addice alle sue caratteristiche, quella di massima scorrevolezza. Posizione di massima velocità per Marta Bassino, che si sta avvicinando al muro, 17 centesimi di vantaggio. Comunque, rispetto alla svedese Sara, Hector, che ha disputato una grandissima seconda manche, come peraltro Federica Prignone. Però Marta Bassino sa sciare, sa sciare molto bene, due centesimi adesso il ritardo. Come la vede Marta Bassino, presidente? Stassiando bene, stassiando veramente bene. In effetti è lì con le prime, eh? Eh sì, eh sì, perché ha due soli centesimi il distacco rispetto a Sara Hector, adesso ha perso qualcosina, 29 centesimi. Però, insomma, la svedese ha disputato una manche davvero mostruosa, come ha detto anche Federica Prignone. Vediamo, ultime porte, ultime porte per Marta Bassino, 2,29, netto il tempo da battere, davanti. È davanti di 11 centesimi, è davanti, è davanti Marta Bassino, braccio al cielo per Marta Bassino in testa nella classifica parziale Grande Italia, primo e terzo posto al Sestriere nella classifica parziale con Marta Bassino in testa, 2,28,89, 11 centesimi. Il vantaggio rispetto alla svedese Sara Hector in terza posizione, abbiamo Federica Prignone con un distacco di 66 centesimi. Questo è il podio al momento, sarebbe un podio straordinario, manca la slovacca Petra Vlova, la migliore stamattina. La slovacca Petra Vlova contro Marta Bassino, 26 vittorie in Coppa del Mondo per la slovacca, 5 per Marta Bassino. Partita, partita slovacca Petra Vlova contro Marta Bassino, un distacco 7 centesimi. Il vantaggio minimo di Petra Vlova rispetto a Marta Bassino, adesso ha 3 centesimi di ritardo. Luce rossa per la slovacca in posizione di massima velocità, potrebbe recuperare qualcosa rispetto a Marta Bassino, però adesso arriva il muro dove la Bassino sicuramente rispetto alla slovacca sa sciare meglio, perché è una grande sciatrice Marta Bassino. Al momento abbiamo 4 centesimi di vantaggio per Petra Vlova rispetto a Marta Bassino, battaglia Presidente Roda sul filo dei centesimi. Anche lei è forte, è molto forte, è molto forte, però la Bassino ci è piaciuto molto, perché ha sciato, ha avuto la linea giusta. E poi la Bassino è andata forte in fondo, quindi potrebbe farcela. Potrebbe farcela, 25 centesimi, 25 centesimi, il distacco adesso di Petra Vlova rispetto a Marta Bassino, che è andata forte nell'ultimo tratto come peraltro stamattino. Sta tagliando il traguardo, ci sembra indietro, ci sembra indietro e così è. In terza posizione, in terza posizione Petra Vlova e dunque arriva la vittoria per l'Italia, con le braccia al cielo, la festa per la piemontese, gioca in casa Marta Bassino, il tricolore naturalmente che la fa da padrone sulle nevi del Sestriere, la stessa pista dove si disputarono le Olimpiadi Invernali del 2006 e dunque grande festa per l'Italia con la vittoria di Marta Bassino, 28,89, 11 centesimi. Il vantaggio rispetto alla svedese Sara Hector, un'inezia. In terza posizione Petra Vlova a 40 centesimi e poi in quarta posizione una grande Federica Brignone con un distacco di 66 centesimi rispetto alla compagna di squadra e poi scorrendo la classifica in undicesima posizione. Il miglior risultato in carriera alla terza partecipazione in Coppa del Mondio Asia-Zenere, l'Azzurra Vicentina partita con il pettorale numero 43. in undicesima posizione con il miglior crono della seconda manche, se non andiamo errati, insieme a Marta Bassino. Poi naturalmente controlleremo meglio, è così, è così, è così, è così. E dunque, insomma, miglior crono anche per Asia-Zenere nella seconda manche, una grande festa per l'Italia.